Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video per il video del lunedì, ragazzi sono in tenuta da mare e soprattutto sono su un'amaca in questo momento perché quando hai i trading system, quando hai i sistemi computerizzati non devi a forza stare davanti ai grafici perché il trading lo fanno loro al posto tuo sarebbe bellissimo se fosse così, in realtà non è per niente così, anche se sembra perché è vero che i sistemi informatici cliccano sul bottone ma poi la strategia, l'ottimizzazione della strategia il monitoraggio, se giusto o sbagliato, l'overfitting, i 3 milioni e mezzo di problemi che chi fa trading system conosce benissimo li dobbiamo fare sempre noi con tanto di formazione, libri, libri di trading ovunque ragazzi e anche in versione estiva si studia e si ci forma sempre oggi facciamo l'analisi dei mercati, il nuovo ciclo per bitcoin quello che aspettavamo era la cross ciclica di agosto, è venuto il 28 luglio quindi invece dell'1-2 agosto è anticipato un paio di giorni ed è ripartito il nuovo ciclo mensile dopo questa fase di agosto lo ha perfezionato diciamo oggi, nella giornata di oggi andiamo a vedere quello che ha fatto e soprattutto cosa aspettarci, qual è la resistenza più importante da superare, che la conoscete già, però non ve la spoilero perché ve la dico nel video così vi fate un paio di risate, va bene e vi lascio ai grafici e noi ci rivediamo in settimana se ci saranno degli aggiornamenti, questa è una settimana molto importante lo capirete da questo video e niente ragazzi io continuo al mio relax e la mia lettura formativa sul trading ciao ed eccoci davanti al grafico di bitcoin contro usd ragazzi allora intanto è abbastanza evidente i livelli che vi ho indicato settimana scorsa adesso ve li ingrandisco, guardate i livelli di ingresso, questi viola 1 e 2 che sono stati diciamo rispettati dal mercato ma comunque erano dei punti di ingresso sulla forza per chi magari voleva tentare di tradare questa fase che tra l'altro ragazzi non sappiamo ancora quanto durerà e dove andrà ma a livello ciclico aspettavamo la ripartenza del ciclo mensile dopo questa fase di debolezza che invece aveva tenuto i mercati un po' sottotono in questo ultimo mese aspettavamo una ripartenza, ho più volte detto che il tentativo di andare short sui mercati assolutamente non congeniava questa fase, non congeniava perché comunque in ogni caso in queste situazioni è molto meglio ricercare un punto di ingresso lungo infatti se vi ricordate il mio ultimo video vi ho indicato anche i miei trading system che stavo seguendo che erano entrati long dai 9008 a dire la verità questo trading system ragazzi ieri ha fatto una cosa molto carina è uscito in protezione prima di questa candelone verde poi è rientrato esattamente all'apertura della giornata di oggi quindi si è presa tutta la candela però nella giornata di ieri era uscito per qualche ora perché aveva visto dei segnali contrastanti e quindi in realtà ha preso profitto e poi è rientrato poco dopo insomma ha fatto questo, sono simpatici da vedere quando lavorano i trading system perché intanto sono ragionamenti di natura statistica e vanno anche al di là di quello che poi è il nostro concetto da trader il nostro concetto di trader discrezionale che poi è anche abbastanza emotivo allora da un punto di vista ciclico quello che è successo è una giornata di oggi diciamo è stata confermata ma era già da giorni che abbiamo visto questo trend rialzista da un punto di vista ciclico è stata confermata la chiusura del ciclo in questa giornata qui ragazzi, il 28 di luglio eccolo qui sul minimo il 28 di luglio è stato chiuso il ciclo mensile che attendevamo in chiusura più o meno verso il 2 agosto quindi in linea di massima anticipandolo di 3-4 giorni una cosa abbastanza normale a dire la verità niente di anomalo ma a dire la verità una cosa che mi ha stupito se questo ciclo come mi attendo è una chiusura del ciclo annuale di bitcoin un'annuale corto diciamo iniziato a dicembre questa chiusura annuale sì per quanto consistente per quanto importante da un punto di vista di distanza tra massimi e minimi dai 13.000 è arrivato fino ai 9.100 però in realtà è stata molto blanda e soprattutto gestita in trading range con una leggera prendenza laterale ribassista perché dico questo ragazzi perché è vero che siamo andati molto in su 13.800 era palesemente stato uno spike il mercato l'ha ricoperto il giorno dopo e si è riportato in aria alla fine 12.000 perché il problema era vi ricordate la famosa resistenza a 11.700 dollari poi diventata a 12.000 qualcosa questa qui che alla fine ho indicato vedete la vedete qui allora questa resistenza è ancora la resistenza ragazzi è ancora resistenza l'aria che va tra 11.700 e 12.100 è la resistenza del mercato perché? perché il mercato è vero che ha fatto qualche giorno al di sopra di questo livello ma poi non ci ha mai chiuso una settimana quindi se andate a guardare il grafico del weekly vediamo se mi fa vedere qualcosa senza distruggere il grafico qui vi faccio vedere insomma anche questa cosa vedete da un punto di vista weekly non abbiamo mai chiuso sui livelli di sopra 11.700 dollari vedete come è chiaro il grafico questa è una cosa molto importante vi fa anche capire guardate come è cambiato il grafico se lo usiamo il weekly e come vi fa capire che questo rialzo in questo momento in questa settimana sta facendo un breakout dei massimi della close delle scorse settimane quindi siamo in trend rialzista che viene confermato ulteriormente quello che manca è la parte degli spike perché c'era stata questa settimana che aveva fatto uno spike enorme fino a 3.800 insomma ragazzi però quelli sono anche fluttuazioni che dobbiamo imparare a riconoscere anche per quanto riguarda bitcoin perché bitcoin è molto volatile come tutto il mercato delle cripto quindi il primo livello fondamentale che i mercati devono raggiungere in questo momento che bitcoin deve raggiungere è il superamento della resistenza a 11.700 12.100 quando in close daily sicuramente ragazzi ma a questo punto noi ce lo aspettiamo in close almeno weekly perché in quel caso darebbe il primo per la prima volta una close superiore a quelle delle settimane precedenti e sarebbe una prima conferma di una ripresa del ciclo annuale perché alla fine ragazzi il problema qual è? ok dal 28 di luglio è partito il nuovo ciclo mensile possiamo anche andare a disegnare probabilmente la nuova scadenza quando dovrà avvenire adesso lo facciamo anche insieme e potremmo insomma diciamo avere questo ecco questo più o meno sarebbe l'andamento dovremmo averla più o meno perso fine mese di agosto quindi sempre primi di settembre probabilmente è una scadenza del mensile se il mercato continua ad avere questo tipo di andamento vedete come l'ha avuto se il trend è molto rialzista potrebbe recuperare un po' di tempo perso in questo diciamo in quest'ultimo ciclo quindi magari fare un ciclo mensile più lungo magari arrivare anche a 31-32 giorni ma lo vedremo con calma al momento lo posizioniamo più o meno entro la fine del mese di agosto che ritengo insomma dal 25 agosto in poi ritengo una accettabile periodo quindi in questo caso ragazzi se il ciclo in questione viene mantenuto così come da previsione come sta facendo negli ultimi mesi tutto qui a quel punto abbiamo ancora tanto tempo in questa prima fase per fare un bel lap insomma ecco per continuare la fase rialzista quanto tempo per la precisione beh allora il tempo per la precisione in questione potrebbe essere almeno fino alla 15-16 di agosto anche questa prima parte qui poi bisogna vedere se fa diciamo una parte a due zappo o meno comunque in realtà il mercato potrebbe continuare almeno per una decina di giorni in questo caso a fare trend rialzisti ragazzi e una decina di giorni di bitcoin a rialzo sono veramente tanti quindi poi vedremo il prezzo dove andrà su queste cose ovviamente sapete come ragiono io non faccio previsioni di lungo seguo sempre il mercato dovesse girare domani mentre in system chiuderebbero di operazione in profitto e andremo tutti a casa quindi per oggi per quello che serve a voi in questo momento spero che qualcuno di voi sia entrato sui livelli che avevo indicato magari se eravate rimasti fuori o quelli che addirittura sono in old non abbiano chiuso alcuna posizione perché il supporto famoso 9200 dollari non è mai stato rotto a bitcoin in questa fase quindi personalmente non ho chiuso nessuna posizione oltre ho chiuso quelle in trading e poi riprese appunto dei tensi sono cose di cui abbiamo già parlato cosa c'è da fare l'esistenza ve l'ho già detto è quella lì a questo punto attendiamo anche la close di questa settimana perché è rilevante anche vedere se riesce a salirci sopra questi livelli in close della settimana andiamo ad Ethereum poi guardiamo anche BNB perché ancora Ethereum non sta facendo quello che deve fare non sta facendo quello che deve fare guardate Ethereum rispetto a bitcoin siamo in una fase intanto assolutamente positiva vediamo se riesco ad allargare questo grafico eccolo qui però è una fase ancora in bar di congestione in particolar modo Ethereum non riesce ad andare su i famosi questo famoso livello vedete si lo sta rompendo oggi già una close al di sopra dei 128 sarebbe comunque positiva ma in realtà ragazzi vedete sarebbe meglio andasse sopra questo livello di massimo quindi sopra 135 quindi sta tra i 228 e i 235 ma non riesce ad andare su perché perché mi deve arrivare quantomeno qui ragazzi quantomeno qui per darci un primo segnale e indicare in questo caso magari che il mercato ha ripreso un ciclo anche su Ethereum in questo momento sembra più che altro la spalla destra di un testa spalle voi sapete che i testa spalle lasciano il tempo che trovano sono dei pattern che in effetti hanno una bassa percentuale di probabilità di poi venire completati quindi insomma non li considero io più di tanto devo essere sincero però in questo caso Ethereum deve fare questo ragazzi deve salire qui come minimo e toccarci la media mobile a 50 periodi questo è fondamentale media mobile a 50 periodi che nella giornata di oggi che è qui esattamente ragazzi e vale 259 260 dollari per quanto riguarda l'Ethereum quindi assolutamente livello di resistenza lontano quindi insomma Ethereum di carne al fuoco ce n'ha e deve salire e deve riprendere questo trend oggi le altcoin fanno un po' scintille e iniziano magari ad avere questo atteggiamento di reazione che dovrebbero assolutamente mantenere per tutta questa settimana vediamo quello che succederà se Ethereum non dà segnali come quelli che vi ho detto in rottura intanto dei 235 con close daily e poi spinta verso i 260 verso questa media mobile deve aggredire diciamo per riprendere un trend rialzista perché la close invece dell'annuale su Ethereum è stata decisamente più pronunciata rispetto a quella di Bitcoin sia in termini assoluti sia in termini di percentuali quindi insomma dobbiamo assolutamente avere questo tipo di segnali per vedere magari una ripartenza delle altcoin restano invariati i livelli di supporto che sono primo questo qui a 190 più o meno 195 e poi quello a 170 se non lo dovesse invertire il mercato guardiamo BNB invece perché BNB perché BNB è spento totalmente quindi sta cambiando qualcosa sul mercato sta cambiando qualcosa per la coin di Binance della salita veramente tantissimo ma in sostanza è dal mese di giugno fine maggio-giugno che è in trend di congestione vedete un laterale leggermente ribassista vedete da qui ok è sostanzialmente un trend laterale lo so che sembra sia un trend di ribassi in realtà questo è semplicemente ragazzi un trend laterale del mercato lo vediamo anche se guardate la media mobile a 50 per ieri che si è appiattita vedete in quest'ultima parte del grafico si è appiattita la media mobile quindi insomma indica questo trend laterale Binance non risponde alla chiamata anche delle altcoin non spinge come sta facendo per esempio anche in questo momento un poco poco Ethereum non parliamo proprio di Bitcoin che ormai ha lasciato il passo alle altre altcoin però in realtà me lo aspettavo più reattivo dove sono i livelli importanti per Binance la rottura di 32 7 e 60 lì quello livello lì che vedete questo qui ragazzi ma deve chiuderci sopra come da linea viola che ho indicato quindi insomma auspicabile un 33 e 34 e il livello importante per una ripresa del trend di questa cripto interessantissima per la prima parte dell'anno va bene per oggi è tutto ragazzi noi ci rivediamo in settimana se ci saranno degli aggiornamenti tenete d'occhio il mercato vi ho detto tutti i livelli è partito il nuovo mensile nuova analisi ciclica nuovo ciclo vedete quanto è importante la partenza di un nuovo ciclo quanto è forte la partenza di un nuovo ciclo al momento è solo un ciclo mensile per dichiarare partito un annuale ci vuole ancora un po' di tempo ragazzi quindi sono passati solo pochi giorni non possiamo diciamo sbilanciarci più di tanto sicuramente è un nuovo mensile a questo lo possiamo dire dopo il superamento di quota 11.100 bene buon inizio settimana a tutti buone ferie per chi è in ferie come me soprattutto buone ferie se il mercato continua a farci più 7 più 10 ogni giorno scherzi a parte ciao a tutti